Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Da fonti vicine all'ambiente aristocratico britannico, emergono voci preoccupanti sullo stato di salute del re, nonostante gli sforzi apparenti per mostrare coraggio e vigore. Anche una nota emittente televisiva, cita fonti ben informate, sottolineando il clima di incertezza che circonda la figura del sovrano, domande circospette su come si trovi veramente il re rimangono nell'aria, anche se nessuno osa affrontarle apertamente. L'annuncio della diagnosi di cancro, reso pubblico dal re stesso in un gesto inusuale, ha generato molte speculazioni. Il palazzo reale ha fornito poche informazioni, alimentando il dibattito su quanto sia grave la situazione. Carlo III, ha continuato a svolgere i suoi doveri ufficiali, ma resta poco chiaro cosa accada dietro le quinte. Le informazioni sono limitate ai membri più stretti della famiglia reale e allo staff del re, che mantengono il riservo. Le intenzioni del re di riprendere presto gli impegni pubblici sono evidenti, ma la recente rivelazione di una fonte anonima non lascia presagire nulla di positivo, creando un'atmosfera di incertezza che contrasta con le rassicurazioni ufficiali della corona. E voi cosa ne pensate di questa situazione che sta affrontando la famiglia reale, con Kate Carlo Malati entrambi? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.